L'approccio iniziale al mondo dei matrimoni non è stato poi così congeniale alla fin fine. Ho iniziato a lavorare come secondo fotografo per varie persone e dovevo adattarmi quindi al loro stile, al loro modo di fotografare, ai loro orari, eccetera eccetera. Sono passato da chi metteva in posa gli sposi per tutto il giorno, quindi dalla mattina, quindi dalla preparazione fino alla sera, a chi effettivamente gli faceva fare quello che voleva, tranne poi qualche foto in posa qui e là, insomma. È stato però un po' in quel periodo, quindi 2018-2019, quando poi sono effettivamente tornato da Cannes, che ho scoperto, tra virgolette, ho approfondito un po' di più la street photography. La chiamo street con le virgolette perché in questo momento questo termine identifica un sacco di fotografie, un genere che secondo me non è quello effettivo di cui si vuole parlare e che la maggior parte delle volte potrebbe essere identificato come urban. Ma non mi sembra proprio il momento di entrare in questo discorso. Mentre ero a Cannes era un periodo in cui volevo uscire di casa, quando non stavo lavorando, quando non stavo editando, per andare in giro, guardarmi un po' attorno in una città che non conoscevo e che vivevo pochissimo. Perché appunto lavoravo la sera fino a tardi, mi svegliavo appunto quindi tardi per riposarmi e dovevo editarle foto, dovevo farmi da mangiare, dovevo andare a fare la spesa, dovevo fare quelle cose. Però quando trovavo del tempo uscivo e andavo a vedere come viveva una città che non avevo effettivamente mai visto e in cui sono dovuto stare per tre mesi. Quindi uscivo cercando delle scene che fossero divertenti. Uscivo con in testa le foto di Martin Parr, di Bruce Gilden, di Gardin e un sacco di altri fotografi. Uscivo e volevo cercare quello che loro vedevano andando in giro, cercare quella situazione strana, qualcosa che facesse sorridere dei modi. Non solo delle persone perché c'è questa cosa secondo me, c'è questa mancanza di rispetto spesso quando si fa street in cui si fa una foto solo perché la persona fa ridere in un certo modo, perché la persona è strana in un certo modo. Probabilmente l'ho fatta anch'io e ora le cancellerei. Manca secondo me il fare un passo indietro prima di scattare la foto, pensare se stiamo scattando quella foto perché c'è un motivo, perché è la scena che in qualche modo la rende interessante o è semplicemente una persona strana a cui stiamo effettivamente anche mancando di rispetto. Dopo aver quindi approfondito e ancora adesso cerco di farlo quando esco insomma un po' di quella che è la fotografia street, mi sono poi imbattuto in qualcuno che faceva delle foto ai matrimoni, quindi veniva anche pagato effettivamente per fare delle foto che sono simili a quelle che facciamo per strada, quindi della street ma durante i matrimoni. Ed è il documentary wedding, la fotografia documentaristica, reportage tra moltissime virgolette perché non è il termine corretto. Quindi fare una giornata di scatti completamente naturale, completamente spontanea, come quando andiamo a fare in giro le foto di street. Adesso smetto di usarle virgolette perché normalizziamo il fatto che sto parlando di un certo tipo di street. Sto facendo questo video effettivamente per dare una correlazione fra quello che è appunto la street e un certo tipo di fotografia di matrimonio. E anche dire il come fare tanta street, non tantissima perché non uscivo tutti i giorni, però uscivo spesso per andare in giro, fare tanta street fotografia e guardare tanti libri del genere mi ha aiutato poi non solo con il tipo di fotografia che volevo fare ai matrimoni, ma anche effettivamente con l'approccio che avevo nel matrimonio. Quindi l'approccio di uscire di casa con due macchine fotografiche, due obiettivi, uscire e guardarsi tanto attorno perché non basta solo girare con la macchina in mano e scattare completamente tutto. Bisogna guardarsi attorno, vedere quello che sta succedendo, cercare di capire cosa può essere interessante e cosa no. Ovvio che ci conviene magari scattare lo stesso la fotografia e poi possiamo vedere a casa se effettivamente è interessante o meno. Però anche durante il matrimonio quello che faccio è guardare molto attorno, guardarmi molto attorno, guardare quello che succede, guardare le persone, quello che fanno, come si relazionano fra di loro e tutto quello che succede appunto intorno a loro. Ed è una cosa che ho sviluppato facendo street, uscendo di casa, andando, io vivo vicino a Venezia quindi andando a Venezia dove c'è sempre molta gente, dove c'è sempre tanta gente e tanta gente diversa, quindi tanti turisti di tanti luoghi diversi, vedere come loro si relazionano a una città che è molto particolare, perché Venezia è una città molto particolare da vivere, da girare, proprio da... Da esperienziare, da espertizzare, da e... Scattare per strada forse è una di quelle cose che ti dà meno soddisfazione nel breve periodo, soprattutto se si è molto, molto autocritici, perché soprattutto all'inizio anch'io uscivo e scattavo tante foto che per me erano buone foto e in realtà poi erano foto di palazzi con il cielo e le nuvole tagliate, insomma, niente di... niente di incredibile o che comunque non avevano un vero motivo di esistere per me almeno, erano foto che per me avevano solo estetica e nient'altro, quindi soprattutto un'altra cosa è che uscire di casa magari una giornata intera per fare questo tipo di... per fare street e poi ti ritrovi anche con nulla, aver passato magari dieci ore, otto ore fuori di casa a fotografare e poi tornare a casa a guardare le foto e non trovarne nemmeno una di decente o al massimo una, è una di quelle cose che un po' ti... ti blocca, no? Ti fa dire, ok, ma di tutte queste ore io ho buttato otto ore per fare una foto, però essere molto autocritici in questo tipo di fotografia, secondo me, ti dà il modo anche di migliorare, non dico velocemente però, di allenare tantissimo l'occhio, di allenare tantissimo l'approccio che si ha. E questo poi l'ho trasportato effettivamente nella fotografia di matrimonio, dove ovviamente non può esserci una sola foto buona, ce ne devono essere tante, cioè è come... è veramente una sessione di street intensa e compressa veramente in quella che è una giornata sola in cui devono esserci molte più foto buone. Poi entra in gioco anche una questione di andare sulle foto sicure, perché sappiamo che bene o male le scene sono quelle, no? Anche nella street alla fine, molte scene si ripetono, possiamo vedere tante foto simili perché tutto il mondo è paese, quindi ci sono... noi possiamo aspettare una certa scena, possiamo aspettare che qualcuno faccia qualcosa effettivamente, perché sappiamo che sta per succedere qualcosa, in qualche modo per esperienza, per fede, ci speriamo magari. E stessa cosa i matrimoni, sappiamo quali sono i momenti critici della giornata e quindi sappiamo quello che succederà in certi momenti, quindi possiamo posizionarci, sapere già in anticipo quello che succederà e poi scattare. E quelle sono le foto sicure. Poi ci sono le altre foto che sono quelle quando... sono le foto un po' più difficili, sono quelle quando ci usciamo un po' da quello che è la zona delle foto sicure e cerchiamo di fare qualcosa di diverso dal solito. E nella street è più o meno dovrebbe essere sempre così, cercare di spingersi sempre un po' più in là e fare qualcosa che non sia solo una foto sicura o esteticamente buona, ma una foto che vaga qualcosa per noi, vaga qualcosa per quello che vogliamo raccontare come fotografi, come posso dirlo. Siamo tutti alla fine... vogliamo tutti raccontare quello che è la nostra vita o la nostra società o il tempo in cui viviamo, perché la fotografia ha sempre fatto quello, è sempre stata una finestra sul tempo in cui è stata scattata, sulle usanze, su quello che andava di moda, su quello che erano le persone in quell'epoca, in quel tempo, i vestiti, il modo di andare in giro, il modo di vivere, il modo di mangiare, il modo di fare tutto, insomma. Quindi fare street sicuramente mi ha aiutato a migliorare non solo il tipo di fotografia che faccio, ma anche l'approccio a tutta la giornata, alle persone anche, perché fare street vuol dire mettersi spesso in relazione a persone in modo molto esagerato quasi, nel senso che quando fotografiamo delle persone anche da vicino andiamo a rompere il loro spazio. Adesso è una cosa che è molto più difficile da fare, nel senso che non possiamo più avvicinarci più di tanto, penso anche alle foto di Bruce Gilden, lui ha un modo molto esagerato di andare addosso quasi alle persone, di fotografare le persone da vicino, e spesso ci troveremo anche a confrontarci con persone che non hanno effettivamente piacere di essere fotografate. Ai matrimoni questo non succede perché siamo comunque il fotografo, siamo stati pagati per essere lì, siamo stati scelti per essere lì, quindi difficilmente ci sarà qualcuno che dirà di non volere delle foto, soprattutto perché sanno esattamente a cosa servono quelle foto, invece quando una persona vede per strada, ti vede fotografarla, non sa per cosa stai usando quella foto, non sa se sei un fotografo, se sei semplicemente uno che vuole rompere le scatole, chissà dove va quella foto, quindi invece nei matrimoni è molto più semplice, tra virgolette, però abbiamo comunque il bisogno di interfacciarci con molte persone che sono lì, e soprattutto nel mio caso di non essere esageratamente invadenti, per quello che faccio io ad esempio. Questo per dire cosa? Non c'è veramente un fulcro principale del video, non c'è una morale alla fine, un allora fate questo per fare anche l'altro, migliorerete facendo questo. Volevo solo raccontare un po' quello che è stato, quello che è la mia esperienza tra la fotografia di matrimonio e la fotografia di strada, e dicendo che chiaramente se qualcuno vuole approcciarsi a un modo di fotografare un matrimonio, che è il modo documentaristico, insomma in modo naturale. Forse fare street potrebbe aiutare molto a migliorare l'approccio, non solo però come fotografo, anche come persona, e a migliorare anche il modo di fotografare, migliorare non solo la tecnica, ma anche il guardare una scena, l'imparare a osservare più che fotografare, quindi passare più tempo a osservare per scattare le foto buone, e non fare scattare mille foto per poi scegliere a casa una che sia la meno peggio, insomma. Spero che questo video sia stato almeno un po' interessante, spero che non sia stato un sacco di parole a caso una dopo l'altra, intanto c'è il mio cane che si lamenta, e basta. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao. Ciao ciao.